Terza edizione della manifestazione Mangia e Cammina sugli Alpi una simpatica giornata alla scoperta della valle e dei suoi alpeggi degustando in compagnia i genuini sapori della Val Bredetto Mangia e Cammina sugli Alpi è una passeggiata enogastronomica lungo un sentiero di 8 chilometri e mezzo con poche difficoltà che si snoda dall'Alpe Cruina di Osco fino a Ronco La passeggiata attraversa paesaggi incantevoli che insieme alle prelibatezze culinarie proposte la rendono un evento speciale per tutti In quattro tappe vi saranno offerte alcune squisitezze gastronomiche regionali accompagnate da vini ticinesi Giunti all'ultima tappa ci sarà il pranzo in comune e la possibilità di acquistare i prodotti che sono stati proposti durante la camminata Ci sarà pure l'occasione unica di visitare un'esposizione di campani Il pomeriggio sarà alietato con musica dal vivo del gruppo Sanuc Sul percorso sarà allestita una postazione dedicata alla selvaggina che vive nella nostra regione Tutte le persone di tutte le età passeranno una piacevole giornata in mezzo alla natura in compagnia, passeggiando e godendo della bellezza del paesaggio del nostro territorio Una festa alla quale non si può mancare La grande affluenza a questa manifestazione contribuisce ad aumentare la cultura del nostro territorio e ad apprezzare la ricchezza culinaria La festa alla quale non si può mancare La festa alla quale non si può mancare Grazie.